Ciao a tutti, nel video di oggi Leone e Vittoria insieme alla nonna e la mamma vedono per la prima volta Cirque du Soleil poi, in serata, vanno a mangiare una pizza vi lascio al video, buona visione Grazie Grazie Ragazzi, vi volevo ringraziare perché Befer Ragnez è ancora lo show più visto su Prime e sto guardando tutti i vostri tweet, sto guardando le vostre stories, i vostri direct grazie mille, sono super contenta che vi stia piacendo